Un saluto ai telespettatori di Foneis, siamo qui al Sinister Noise che vedrà stasera in scena il gruppo Peter Pan Speed Rock. Il gruppo è nato in Olanda nel 1997. È costituito di tre membri, abbiamo Peter Pan Helden che è il fondatore del gruppo e i due Bart che sono gli altri due membri del gruppo. Grazie a tutti. 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 a tutti.